Ciao a tutti, ieri ero in attesa di sapere cosa avesse fatto Chiara riguardo alla questione Faith, ma soprattutto riguardo alla questione dell'avvocato di Marco e Dennis, perché ricordiamo che quest'avvocato aveva usato un pezzo del suo video su YouTube e il suo volto, diciamo, una sua foto per spiegare determinati tecnicismi legali e cioè che le diffide su WhatsApp hanno valore. Siccome, come ricordiamo tutti, lei aveva detto, insomma, che avrebbe preso provvedimenti anche contro questo avvocato, Reo, insomma, di aver violato il copyright, di averla bullizzata e quant'altro, aveva detto che sarebbe andata dai carabinieri e, insomma, vediamo che cosa è successo. E lei, in effetti, ha fatto una live dal titolo Ho ritrovato la serenità e sono troppo felice. Allora, se qualcuno di voi ha intenzione di andare a guardare questo video, insomma, munitevi di fazzoletti perché si piange. Cosa ci dice? Che finalmente ha fatto quello che doveva fare da tempo e che sono stati fino alle otto dai carabinieri. Questa cosa però a noi non dice nulla perché loro potrebbero essere entrati alle otto meno cinque e usciti alle otto, quindi questa affermazione lascia un po' il tempo che trova. Comunque, dice Chiara che ha chiesto al maresciallo se poteva far vedere quello che aveva, la cosa che aveva fatto. E il maresciallo ha detto sarebbe meglio di no. E quindi lei afferma che anche se potrebbe far vedere quel 20%, non lo fa vedere. Punto. Riafferma però che ha fatto tutto ciò che andava fatto, che non rimuoverà alcun video, però non parlerà più. Io suppongo si riferisse a Faith, Dennis, Marco e non so se in questo trittico magari ci mette anche l'avvocato di Dennis e di Marco. Vai a sapere. Ad un certo punto fa vedere un cellulare, dice che è suo questo cellulare e che hanno scritto delle bestialità dicendo che ha maltrattato la madre e chiede a Luciana di far vedere come è andata. E al suo diniego le dice che se deve passare per quella che non è. Insomma racconta che lei stava parlando, la madre leggeva i commenti, non doveva dire certe cose e lei più volte la ripresa dicendo di smetterla. Le ha detto di darle il telefono e la mamma non voleva, a un certo punto ha tolto l'audio e le ha detto di smetterla. Lei voleva provare diciamo a prendere questo cellulare dalla mano della madre che non lo lasciava e allora gliel'ha tolto. In poche parole l'ha strattonato, cioè quindi lì siamo insomma. Possiamo raccontarcela come ci pare però ha preso questo cellulare e l'ha strappato dalle mani della madre. Dopodiché dice che è felicissima, che è emozionata. Perché? Perché finalmente le è arrivato l'album del matrimonio. Lo toglie dalla busta, lo toglie dalla scatola protettiva e finalmente vediamo questo album che insomma ci sono venuti tre anni per avere. Allora si presenta, lei dice che è in pelle, in pelle bianca. La madre le chiede se è pelle di pecora e Chiara risponde è pelle del bus del miau. Vabbè, noblesse oblige. Dice che l'ha fatto anche sbiancare giustamente, visto che è bianco questo bus l'avrà sbiancato per bene. Comunque la copertina di questo album è in plexiglass e c'è la foto di loro due. Una foto che ha scattato lei o lui insomma, un selfie che si sono fatti loro all'interno della limousine. Le foto non sono attaccate come le foto normali ma sono stampate proprio sulle pagine dell'album. A un certo punto chiara Davide per aiutarla perché sembra che questo album sia abbastanza pesante e cominciano a far vedere le foto. In queste foto ce n'è una, lei è seduta all'interno della limousine, ha il volto girato verso il finestrino, il gomito appoggiato appunto al finestrino e il pugno, la mano chiusa al pugno sotto il mento praticamente e sembra che stia pensando. E la madre guardando questa foto le dice stavi pensando di tornare a casa, lei la guarda e le fa. Vedi che questi commenti sono fuori luogo? Io sinceramente cioè non ci vedo nulla di male in un commento del genere, una battutina tranquilla. Comunque a quanto pare non è piaciuta alla Chiara. Continuano a far vedere queste foto. Devo dire che secondo me alcune foto potevano venire meglio se il fotografo si fosse impegnato di più diciamo a scegliere i posti giusti. Cioè nel senso chiamateli sfondi, chiamateli location, insomma chiamateli come vi pare. Però secondo me alcune foto insomma sono un po' come posso dire buttate lì insomma fatte giusto per ad esempio ce n'è una in cui si vede che Chiara e la nipote di Davide escono da un cancello. Secondo me quelle sono foto che ti fanno gli amici, ti fanno insomma i parenti, ma un fotografo che fa una cosa del genere secondo me, non so fino a che punto sinceramente. Oppure ci sono due foto in cui si vede una fontana in primissimo piano e loro due proprio sullo sfondo, cioè si vedono e non si vedono. Così anche la foto in cui c'è la limousine, per carità bellissima macchina, però io vorrei vedere gli sposi e invece gli sposi stanno sempre un po' sullo sfondo. Quindi certe fotografie, cioè io se fossi stata con Chiara mi seri seduta lì vicino al fotografo e gli avrei chiesto dimmi perché, cioè perché il senso di ciò. Comunque a lei piacciono degustibus eccetera eccetera. E qui viene il momento emozionante perché? Perché Chiara nell'album delle foto ha fatto scrivere una dedica ed ha fatto scrivere il vero amore può nascondersi, confondersi, ma non può perdersi mai. Sempre e per sempre, dalla stessa parte mi troverai. Se dovessi scegliere tra il tuo amore e la mia vita, sceglierei il tuo amore perché è la mia vita, eternamente tua, eternamente mio, eternamente noi. Qui diciamo che ha rubato a mani basse alla canzone sempre e per sempre di De Gregori, ma insomma penso che l'altro resto sia farina del suo sacco. Mentre leggeva aveva una faccia diciamo tra il compiaciuto e l'emozionato e in effetti insomma poi si è anche messa a piangere. A Davide questa dedica è piaciuta talmente tanto che se la farà tatuare, devo dire che la lacrimuccia è scappata anche a lui e nel mezzo di questo momento emozionantissimo Davide si alza e gli si vede il fondo schiena insomma. Rivolgendosi agli utenti Chiara dice che è contenta, che è vero che dopo la tempesta c'è sempre il sereno, dice che ci sono anche foto con la figlia in questo album che però non le ha fatte vedere e che ora aspetta il video che sarà sicuramente molto più emozionante insomma dell'album. Dice che devono ancora pagare per questo video 500 o 700 euro, non ricorda bene ma insomma c'è ancora qualcosina da pagare. Luciana le chiede se ha fatto qualcosa contro il moderatore Fantasma e le risponde che i carabinieri le hanno detto di andare alla polizia postale e poi afferma che chiunque prenderà in giro le foto del loro matrimonio è perché è invidioso. Quindi se ho parlato male delle sue foto sono invidiosa e ragazzi che ci devo fa? Anch'io vorrei la limousine, l'abito bianco, il gioiello dell'oceano e quant'altro soprattutto un marito come Davide insomma però io me lo posso solo sognare fortunatamente. Ribadisce che si è tolto a macigno dalle spalle che ha fatto tutto quello che andava fatto dopo di che arriva Davide si danno il bacino di prassi insomma. Non se lo sono potuti dare durante la visione dell'album perché appunto c'era questo album che è enormissimo con tutte queste foto insomma e quindi erano ostacolati e hanno provveduto in seguito. Dice che lei e il marito eviteranno di parlare di certe persone, io credo Faith, Marco e Dennis, lasciando che la legge faccia il suo corso e invita gli utenti a farle sapere qualsiasi cosa viene fatta contro di loro perché probabilmente dovrà integrare. Comunque ci fa sapere che lei non autorizza che si prendano le sue foto, io penso quelle del matrimonio, il suo folto in genere insomma non saprei. Ad un certo punto si guarda al lato e dice inutile che mi dici taglia amore. Lui le rifà ancora il gesto e non era taglia ma era bye. Evidentemente era tanta la voglia di Davide di aprire la sua di live che spinge Chiara fuori da quella che stava facendo, dalla live che stava facendo. La spinge letteralmente. Allora, cosa dire? Io parlo sempre per le sensazioni che mi sono arrivate. Allora, prima cosa, questo fare bambinesco che ha avuto un po' dall'inizio alla fine non mi è sembrato del tutto naturale, cioè questo, non dico fingersi, però questo caricare il fatto che lei fosse felice, senza pensieri, che si fosse liberato da questo macigno dalle spalle, l'ho trovato un po' troppo forzato. Ecco, non discuto sull'emozione che può aver provato perché in effetti insomma dopo tre anni e passa finalmente ha avuto questo album del matrimonio e ci sta insomma rivedersi ed emozionarsi. Comunque vedremo cosa accadrà video vedendo, come si suol dire, o live vedendo. Comunque questo era tutto, io vi ringrazio per avermi ascoltata. Se volete lasciatemi un like, se volete iscrivetevi al mio canale, se volete lasciatemi i commenti. Ciao a tutti, un bacio e alla prossima!